Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di A.I.S. The Horror Game Sono Mr. L e sono qui in compagnia di Sozuki Aizen Mi ho preso in giro perchè c'è un cu un ciuffo che se non sapete è un personaggio di un anime Ma c'è un cu un ciuffo uguale al suo lui Che modalità siamo? Ah 20 quindi sono in modalità normale Ok ragazzi quindi come cazzo si giocava che non mi ricordo una sega Come si correva? E' più pulsante Così si salta ma è inutile Si salta? Ah si può anche saltare sul tuo gioco? Si è inutile però Così si salta Come si correva? E' con un percento in avanti No non si poteva correre Ok così si salta Si dobbiamo saltare che da serve Oh è mappa vero? No ok Ok niente ragazzi stavo sistemando Vediti più vicino che la tua voce non si sente Ok Ho già perso abbastanza tempo ragazzi ma mi ricordo come si gioca per il resto Andiamo per di qua Ecco gli occhi e adesso scoprirete cosa servono Se ancora non lo sapete Madonna quelle cuffie La prima volta è una Quella mia non funziona Ah si perché Oh bene mi piace questa cosa qui Ci aiuterà molto Vi ho preso una chiave per i sotterranei Per l'underworld Oh voi avete presente Io mi sono inventato sta battuta qui Avete presente quando su Minecraft Scavate così tanto che trovate l'underground di Undertale Ma non il diamante solo perché il gioco non vi da soddisfazione Stessa roba per me Oh io ero una volta su Minecraft Ok qui vicino Ah è che il mostro C'è un livello Bate solo le vie temporali No si a livello 13 trovi i diamanti Sì E il punto io ho scavato così tanto a livello 13 Che mi sono ritrovato solo grazie alle miniei naturali Al livello della terra Come si chiama Mi sono ritrovato in superficie Solo di andare avanti Ok il mostro è pieno di sotto Ma sta già prendendo le scale Quindi potrebbe andare piano Ma a volte ritorna giù A volte A volte A volte Beh Dov'è? È di sopra È su è su Quindi noi andiamo giù Mi sono perso la porta Andiamo giù ragazzi Come si saltava Ma non serve saltare Ma vuoi capirlo che non serve Ogni tanto ti incasti sulle scale è utile No è giù È qui È qui Non avrai mai il mio culo Com'è che la scatola ha fatto qualcosa di su Ma No 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 Topolino Io non l'ho visto No perché si gira da solo Ok Rimaniamo in modalità normale E rigiochiamo Alterniamo le martite Spegni la luce Atmosfera ragazzi Ora si che fa paura Guarda che bello Il soffitto A cassettone Non l'hai vista tua Ma scusa ma Non potremmo restare qua a dormire Non ci trova E la fa culo Ok quindi Ho doppio occhio ragazzi Doppio occhio Bene Bello Nessun sacchetto In compenso In compenso Sacchetto Usare la scuola Per me andavo contando Come si tiene contando Bene Un'altra chiave Un sacchetto Un altro sacchetto Doppio sacchetto Come si Ah il telefono Ah mi toccherà tagliare tutto Ok Indovinate che No Trapasso via che avete Non ho voglia di editare ora Ma vai a cagare Dai Non vuoi un cazzo a scuola Non vuoi un cazzo a casa Puliscimelo No Ma io non vedo un cazzo a quello lì Via che schifo L'ho schiacchata E fa ora di insetto E poi Gli animalisti ti ucciderebbero 60 volte Si Non l'ho schiacciato L'ho solo ferito L'ho solo ferito Ora l'hai qui No l'ho mandato via Che finisci in base Ma poi qualcuno dai Non volevo uccidere Mi dispiace Si ora tommo in vita Mi dispiace Giusto? Dove sta andando? Ehm Il piano di... Ma guarda che scende così Non so dove va Ok Ma sentite Vaffanculo Vassi lo stesso Ma si dai Determination Ragazzi Determinazione Dov'era lui? Pieno di sotto Di sotto Ma si dai Fanculo la strategia Noi ci puzza la vita Non vogliamo vivere Così si trovi Mi dispiace Non andare davanti Moscerino Che sei un altro Non voglio uccidervi Oh guardate E' suo padre Un due Ho ucciso mio figlio Bastardo Io ucciderò tutto Madonna va via E mi tirò di un ceppone quasi Oh bene Money money Va via Va via Ok Money 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 Spegni la canela Ah no ma Disegnata col culo proprio E ormai so tutta memoria Io no Ti gioco fuori Oh Scalacchio Bene Bene Andiamo qui sopra Zacchete Un libro inutile Non posso buttarmi Lo si Mancavano le collisioni Con la sbarra E Moscerino di merda Ok Mi compenetro con lampadario Puttane Che io posso Ti ho fatto quegli uniti Questi effetti No ho paura che sia qui No l'avete sentita E si serve Tutto run Tempo run No No Perché non posso correre Apri la porta Vai nella stanza del satanismo Nella stanza satanista Usa il sole Usa il sole Via Aaaaa Cosa che non ci spisturano È più interessante Ok Ok Ti vadi Prendi sto asciugamano E puliscimi Lo schermo Dai Moscerini Ma io non vedo un cazzo Ah quello li ho capito Non spiccicarlo Non spiccicarlo Non li è spiccicarlo Non li è spiccicarlo Non li è spiccicarlo Non li è spiccicarlo Si ma deciditi Vai indietro Avanti Ho sentito il suo suono Io ho sentito il suono Madonna la via Moscerino Tra Hai sentito il suono? Vai 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 No 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 Come cazzo? Mettevi Mettevi l'occhio Mentre Basta Fai te ora Cambio postazione Normale Hai finito? Porca putt Devo giocare io E che cazzo Ora starà giocando Il coraggiosissimo Nick Ritz Ragazzi Si ma io sono Mancino E mi metto il mouse A destra Ok 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 Così Come Non si possono usare le freccette Devo usare Wast Wast Ma sto gioco Ma che gioco di merda Prova a usare le freccette Magari funziona comunque Prova Oddio funziona Va bene Ok Il Chris e Mancino Ragazzi Possiamo nel medioevo Adesso tu saresti costretto Usare la mano destra Perché Ti pensavo Che fosse il simbolo Vaffanculo Io sono il signore Hai già saltato un sacchetto Hai già saltato un sacchetto Ma vaffanculo Che te i sacchetti Tu vaffanculo Ficatemi in culo Non te fichi in culo Hai già saltato un occhio Mi sei verso la sinistra Oh madonna Ma io in un nerdo sto gioco come te Ma io non c'è mai giocato Ma che cì Non c'è mai giocato Però so in ogni angolo della casa Guarda Io mi carico 20 capitoli Dunciarted In un giorno Io li carico Sì infatti 20 in un giorno Ma venti in un giorno Perché sono solo io Che li faccio Sì perché sai Anche io Anche io ho una PS4 Eh no Tu non ne neghi Sbox E questo è il problema Ah Quindi muto Devi stare Ah Ah Mi vivo La sensibilità del tuo mouse È troppa Non si capisce un cazzo Faccio un movimento Mi ritrovo Che se io si gioca meglio E gli spara tutto E gli spara tutto un cazzo Io sono il tipo Se voi sapete I dottori Che quando fanno I dottori Quando devono operare Che c'è un assistente Che gli pulisce il sudore Io pulisco lo schermo Da E pulisco lo schermo Però tu a me dai fastidio Non mi aiuti Davvero E se metti la mano davanti Che fai E se ti tira un pugno Che porta lo schifo Diventi un Un safe Da quanto te ne do Sì vabbè Se non capite Ah sì Infatti dai Abbiamo fatto dei video Porca puttana Lo sento Lo sento Lo sento Col cazzo che viene Avanti Avanti Sta fermo Porca puttana Ho contentato Il guastì Ragazzi Stavamo andando avanti Dai vieni qua Vieni qua sei coglioni Vieni qua Sta fermo Ma puttana Come cazzo si fa All'occhio qua Q Qua trema tutto Ma che cazzo E Fatti Fatti con la merda Si così Sto sclerando Lo so Dai vieni qua Vieni qua Porca puttana Un pedo di porco E non ho paura di usarlo Hai sedato no Tu sei no Vabbè io non torno Inghiettero Corri qua Devi andare di corsa Guardare sempre i lati Vai Run Run Corri 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 Sinistra Qua Sacchetto Continua Ma il pantagane C'è del peso La mazza Destra Forse c'è la chiave Forse c'è la chiave Sì Vai Siamo ricchi Money 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 Soldi Soldi Assieme Soldi 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 Ok Sì lo so Lo so Tranquillo Bene Dai che poi vinci in modalità normale Non vinco neanche in modalità Cazzo L'ho vista L'ho vista Non vici neanche in modalità pacifist Che non c'è il mostro Destra Destra Ma va a cagare Managgia te Non posso dire altre cose Perché se no Vabbè eravamo a buon punto Questo qua non posso andirlo Sensibilità povero Devi togliere queste cose Ma scusa ma la chiave La basement mappa Dove cac... Si K Dove... Eh Quello da dov'è La basement k E' la più anzi Da sinistra Dai Sai che gioco Che stisca Senti il rumore Mi manda una puttana di gameplay E' stato fatto introduzioni Perché Non sto qui Un'ora a editare tutto Sì invece Sì vabbè Se devi editare 5 minuti Vabbè vedranno le porte chiuse Diranno forse stanno registrando Quindi mai non andare a rompere C'è Ci stanno guardando Ah 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 ti sei cagato in mano eh Ci stanno guardando Aspetta Loro Aspetta Aspetta Vino No manca lo Lo senti? Un tivo Ora non più Ok dai 6 e 6 Più un altro occhio Allora io vorrei fare una ram però Ho dubbio Bene vai Vai di sopra dai 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 Ma che cavolo non capisco più Scattino di sopra Scattino Lino 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 Ah porco flander Sai zitto E adesso me lo trovo sulle scale Sì infatti a volte sapete con me che roba Lui quando Io a me mi sgamava sempre Quando avevo trovato i sacchetti Gli trovo 20 e mi sgama Trovo 20 Sa dove sei Tipo scp 96 Sa dove sei Ovunque tu sia Siamo ancora in tema creepypasta ragazzi Perché abbiamo fatto una creepypasta Sugli scp In pratica è una pasta che fa schifo a tutti Quindi è chiamata creepypasta Queste battute qui sono illegali Dal 2008 Sì vabbè ma è uscita la legge Sì ma il 2008 c'era la crisi quindi Le battute di Chris sono illegali Chiunque le dovesse sentire È pregato di dimenticarsene O verrà perseguito dalla legge Sì ma quella legge è stata È stata abolita dall'impero romano Durante il regno di Augusto Quante cazzate stiamo dicendo Appunto Perché dobbiamo distogliere l'attenzione Dal mostro quindi Come cazzo si preme qua quell'occhio Io per mu... E ram Insomma Ti ha ciavato in un modo Sì Come si preme qua eh Ha trovato ram Ma vaffanculo Faccio io Vabbè fai te Ok cambio di posto Dammi le coppie Vai track Che palle I tagli ragazzi Che dovrò fare più avanti Per poter caricare Magari non verrà visto da nessuno Ma si tanto tu Io lo li hai messo Ok Un attimo Ok Controllo di Mr. L Dai Determinati Troviamo tutto Sacchetti Sacchetti Voglio tutti i sacchetti Di questo mondo Fanculo la mappa Mi baso solo su istinto io Come faccio io Un occhio Se ormai mi sa orientare bene Un sacchetto Un occhio L'ha preso l'occhio? Sì l'ho preso Ma siamo già a tre occhi Bene ok quindi Un cazzo di niente Un cazzo di niente Un sacchetto Due sacchetti Cinque Ok cinque in quanti minuti? Un minuto Cavolo Cosa c'è scritto qui? Decker Brothers Sarà una marca di piano Che io non conosco Sbaglio io Oppure qua Ma sono io che non li vedo Oppure non ci sono sacchetti Non ci sono sacchetti Ah che strano Vabbè sì sì Stranone Vabbè è tanto Mi trovo in più Non controllare Facebook Ho bisogno di supporto morale Dove è andata? Piano di sotto Piano di sotto È passata sotto le scale Oh mio dio È passata sotto Non è vero come è? Se avrai tanto vai avanti Vai indietro Quindi devo andare piano di sopra Dai Determination ragazzi Ciò che ci insegna Undertale Adesso è Facciamo attitudini Dopo arriva Uno scheletro come non Che ti è morto Tu sai prima di Che non vuoi fare spoiler Poi dici Sì vabbè Ma non sanno che Cosa scheletro voglio Quindi ora devi starvi Ci sono solo due scheletri Su Undertale No È sbagliato Puliscimi lo scheletro Uff Ti amo Scerino del cazzo Madonna mia Ti stermino dopo Che finisce il gameplay No scherzo Lo butterò fuori dalla finestra Nella modalità pacifist Cosa è Mi piacerà il libro Su serio? No Tipo Arial Black Bisogna di una stanza Bisogna di trovare uno spazio chiuso In cui protegge Mi sono come i top io Ho bisogno degli spazi chiusi Spazi chiusi Ho premuto la cazzo Non l'avevo vista Non è vivo Ok Ok Dov'è? Dov'è? Spicchiamo Puoi usare l'occhio sai Non è illegale Piano di sotto Porta la sfiga a lei Non a noi Via Per di qua Bene La safe combination found Penso che ti serve per uscire Ah guardate qui che sorpresa ragazzi Oh bello Un occhio Tu ti stampi gli occhi all'infinito Non è usato così Sei 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 Non hai usato l'occhio Via Uh Va bene Va bene Dov'è arrivare a tirare i dischi Non usare il giro dischi Non usare Non usare No ti arriva Bene 16 Ti arrivano C'è fune alla balcance Si tocca andare al piano di sotto ora Dov'è? Oh Ok E' al piano intermedio Va vaffanculo Non so se ora viene Quello sopra Senti se va quello sotto Dopo tu Dove va? Dove va? Ah girato a destra Quindi io dico Prendiamo posizione Avviciniamoci alle scale Allora io dico Vai giù Poi in quello Poi le scale sono Ok lì Quindi guarda a nascondermi qui Quando passa vado giù Passa No perché la lascio passare Lascio passare La aspettiamo qui Non è meglio se ti avvicini un po' No Ok Perché? Ah perché si sentiva meglio la tua voce Ma è un microfono potentissimo Sono sul termo Sono sul termo Sto battendo la testa sul soffitto Ok Determination Via Ma f***o Ci ne ho due Guarda sullo schermo Due Ti aiutano Ti stanno portando a fortuna No Giù Giù Dov'è? Ah è fuori Cosa hai guardato il muro No No Dov'è? Sì Grazie a tutti.